Intanto parliamo della relazione annuale presentata dalla direzione centrale antidroga che segnala in Umbria la preoccupante penetrazione della mafia nigeriana. Crescono intanto le operazioni antidroga, aumentano i sequestri di cocaina mentre calano quelli di altre sostanze. Ci spiega tutto Massimo Solani. Anche in Umbria è allarme mafia nigeriana. A rivelarlo è la relazione annuale 2023 della direzione centrale per i servizi antidroga che segnala l'Umbria fra le regioni nelle quali maggiore è la penetrazione delle consorterie criminali nigeriane. Gruppi, scrive il documento presentato al Ministero dell'Interno, connotati da una forte aggregazione etnica, da legami associativi di tipo magico-religioso con connotazioni di settarismo alimentati da un forte potere intimidatorio e da un diffuso comportamento omertoso. Fra le consorterie più diffuse la SEC, la Supreme High Confraternity, la Black Axe Confraternity, ma fight nonché i viking, tutte contraddistinte da un'ampia diffusione di strutture locali relativamente autonome collegate alla sede centrale della madrepatria e stabilmente integrate sul territorio italiano dove controllano attività illecite in convivenza, quando non in associazione, con le organizzazioni criminali autoctone. Una situazione nella quale i traffici di sostanze stupefacenti si rafforzano, come dimostra l'aumento delle operazioni antidroga nell'anno 2022, periodo nel quale l'Umbria, le Marche e il Trentino sono state le uniche regioni che hanno visto crescere il numero degli interventi della polizia e giudiziaria in fatto di lotta alle sostanze stupefacenti. Tutto questo nonostante un calo di oltre il 74% dei sequestri. Cresce di quasi il 250%, però, la cocaina è bloccata dalle forze di polizia, mentre rispetto all'anno precedente calano i sequestri di eroina, hashish, marijuana e droghe sintetiche. 374 le persone segnalate all'autorità giudiziaria, 18 delle quali minori. 16 le overdose registrate in Umbria nel 2022 secondo la relazione della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, numero stabile rispetto all'anno precedente.